Non è indubbiamente una bella serata per parlare, però il primo pensiero va a quei tifosi che sono fantastici. Il mio primo grazie lo voglio dare proprio a tutti i ragazzi tifosi che ci hanno sempre seguito e anche a tutte le persone che lavorano dietro con lei in Bergamo, da Camillo a Claudio a Tangia Renzo, dei nonni tra virgolette che veramente fanno grande questa società e ringrazio tutta la società che è una grandissima società, ma i tifosi veramente ci hanno sempre seguito e supportato. E cosa è successo stasera? Sembrava che fosse rimasta proprio a Bergamo. Sembrava che fosse rimasta a Bergamo stasera. Stasera abbiamo veramente un po' il nostro giorno. Eppure diciamo che hai avuto una reazione fantastica, domenica che faceva pensare a un'altra grande partita. Lo pensavo anche io, lo pensavo. Tutti i quanti non lo ne vanno, però. Purtroppo questa sera a me veramente ha avuto l'onore. complimenti lo stesso Chiara, grazie a te. Grazie a tutti.